Salve, siamo oggi nello studio della dottoressa Patrizia Berarti che ci presenterà il suo libro Lottare con il drago. È la storia di un periodo difficile della vita di una donna che ha vissuto le sfide e le contraddizioni dell'evoluzione femminile degli ultimi 40 anni. Questo percorso ha comportato per lei un impegno duro e costante nei ruoli di figlia, moglie, madre, professionista e l'esito altalenante tra gioie e sofferenze. Come molte donne ha dovuto affrontare l'ambivalenza tra la sua forza e la sua fragilità. La forza l'ha spinta a superare gli ostacoli più con slancio e coraggio. La fragilità le ha fatto incontrare il drago della depressione. Il drago si nutre della disperazione e dell'impotenza. La rinuncia a combatterlo fortifica il suo potere fino a garantirgli una forza senza confini. Guai a lasciarsi andare. La lotta è la sopravvivenza e la certezza della rinascita. Sono Patrizia Berardi. È difficile parlare di sé. La mia vita è stata una vita bellissima. Ho avuto tante soddisfazioni dal punto di vista personale. sono figlia di una bella dolcissima mamma con una depressione bipolare che ho cercato di salvare dalle virinfie degli elettroshock e di dottori che non mi sembravano assolutamente adatti per curare la sua malattia. Vi parlo degli anni 55 e 60. Bene, io ho incontrato il drago, ahimè, il drago della depressione, gli attacchi di panico, la rinuncia a vivere. Avevo tre figli. Li amavo moltissimo. Ciò nonostante non bastavano a rimettermi in piedi. Sono una persona molto determinata e ho anche una grande forza per cercare di non aggirare gli ostacoli ma proprio abbattere gli ostacoli lungo la mia vita. Ciò nonostante in questo periodo che ha coinciso con separazione, divorzio e problemi gravi dal punto di vista del lavoro ho cominciato praticamente ad avere i primi sintomi. Nel gioco della mattina alla sera non guardavo altro che al mio dolore dentro e al mio marasma che c'era praticamente dentro di me. Racconto appunto gli anni che vanno dal 90 al grosso modo 2004 dove ha imperversato veramente il drago nella mia vita che ho cercato di combattere con tutte quante le mie forze e alla fine spero anche di esserci riuscita. E Patrizia perché hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro? Per far sì che gli altri non soffrissero disperatamente di questa malattia senza pensare che ci fossero delle vie di uscita e anche una risalita verso una vita normale. Poi come tutte quante le cose della mia vita c'è stata un'occasione veramente scatenante. In una trasmissione del Maurizio Costanzo Show c'è stata una persona a cui peraltro dedico tra gli altri il mio libro ma è sicuramente questa persona. Un uomo di 45-50 anni che ha descritto la sua voglia, cioè il fatto che fosse rinchiuso dentro casa sulle spalle di una sorella che non voleva assolutamente più vivere, che non c'era cura che lo dirasse fuori da questa disperazione costante e che tanto ormai si sentiva completamente inutile e quindi l'unica cosa che desiderava fare è farla finita. Maurizio Costanzo ha detto appellandosi ai medici italiani possibile che non si può fare niente per quest'uomo? Bene, io ero già, stavo già meglio e il libro ha cominciato a scriversi da solo. Tutti i momenti io scrivevo pezzi, scrivevo ricordi, scrivevo, beh poi l'ho messo insieme con un intento molto preciso. Oggi ci sono due persone su tre che soffrono, chiamiamoli, disturbi psichici, appunto che li chiamiamo depressione. Io ho chiamato drago alla depressione perché è veramente qualche cosa che si impossessa di noi e comunque volevo offrire una storia vera a quanti non avessero più la speranza di guarire. E anche a permettere alle persone di leggere nella loro infanzia, nella loro adolescenza quali possono essere i segnali deboli o anche a volte forti del fatto che poi si è inclini a una depressione magari di breve durata o per quanto riguarda me, invece è stata appunto, sono stati otto anni veramente drammatici. Patrizia, com'è cominciato questo periodo? Cosa l'ha scatenato? Credo che ci fossero già dei presupposti, ma il momento in cui il drago si è scatenato nel mio stomaco, il drago è una roba, chiamo il drago qui perché in realtà si concentra tutto nello stomaco e ha una valenza fisica, cioè un dolore e una valenza fisica, poi viene anche alla testa tutto un macello. Si è manifestato alla morte di mio padre, si è manifestato alla morte di mio padre perché ovviamente nella mia vita non c'era più il supporto di quest'uomo che mi ha fatto oppure lui tanto soffrire e che però non c'era più come colonna. Io ho recuperato il rapporto con mio padre fortunatamente prima che lui morisse e accanto alla barra di mio padre avevo mio marito con il quale molto probabilmente il matrimonio non sarebbe continuato. E da quel momento poi cosa è successo? Beh, ho avvertito dentro di me questa presenza estranea ed era veramente debilitante. Io sono una persona, ci sono due realtà in me, la Patrizia gioiosa, amante della vita, piena di iniziativa, contagiosa dell'entusiasmo, la passione, la voglia di vivere, la voglia di avere tante, di amare il lavoro, di amare i figli e quindi di esprimersi e una nostra voce dentro che invece la perseguita perché dice non sei mai ok, non sei mai ok senza andare, nel libro c'è scritto, senza andare a parlare ora di quello che i messaggi genitoriali hanno scatenato in me ecco però quello che è successo da allora è che io improvvisamente ho cominciato a vedere il mondo tutto nero e non c'era più niente di roseo, sebbene avessi tre figli che amavo tantissimo e un marito che adoravo in maniera... è un lavoro, una mia azienda quindi... il drago mi ha portato a una discesa agli inferi immediata la morte di papà era a marzo e marzo avvile e a settembre io ho stato malissimo malissimo tanto da rinunciare al mio lavoro, non voler vedere più nessuno, non avere più nessun appiglio da nessuna parte che mi desse il desiderio di vivere e questo lo racconti nel libro? il libro segue esattamente l'evolversi della malattia e la mia ricerca veramente determinata a trovare un medico che mi curasse adeguatamente devo dire che tutta la serie di psicologi, psichiatri che mi hanno seguito non ci fa una bellissima... non ci fa una bellissima... non do una bellissima immagine di questi personaggi perché prima di trovare quello che io chiamo il mio salvatore ce ne è voluto di tempo e c'è stato un momento tra l'altro della separazione, del divorzio scusate che mi è sembrato allucinante, cioè come si può cancellare vent'anni di vita in comune così con una stretta di mano e tutto... cioè... senza un lavoro mi sono ritrovata con tre figli perché non li ho voluti assolutamente affidare al mio ex marito e... che aveva una futura terza moglie e mi sono messa a letto mi sono messa a letto per non rialzarmi più devo ringraziare tanti amici che in quel momento mi sono stati vicino ma... lo chiamo nel libro Oltre l'Inferno è il capitolo settimo capisco che per alcuni può essere molto destabilizzante leggerlo ma... beh... ma io ne sono fuori e l'ho scritto questo capitolo proprio perché non dobbiamo spaventarci di fronte a... avere dei momenti veramente di... sconnessione totale dalla realtà c'è poi la risalita e come lei è affrontata questa situazione così disperata? se dovessi descrivere i minuti di vita direi che bisogna assolutamente pensare che poi passa poi passa... il momento peggiore poi passa certo hanno aiutato anche le medicine ma... la cosa più importante che ho capito è che bisogna avere innanzitutto una cura di se stessi dal punto di vista fisico bisogna stare bene, bisogna mangiare quello che serve bisogna prendere tutto ciò che ci permette di integratori per lo meno questo è stato il mio percorso perché per otto mesi i farmaci che prendevano non mi hanno fatto assolutamente niente io stavo sempre malissimo e... istintivamente perché poi sono... ascolto il mio corpo e ascolto... ecco istintivamente io sono andata... cioè mi sono fatta curare da famosi medici alternativi diciamo e quindi per vedere proprio i radicali liberi per vedere... e devo dire che dopo 8 mesi di cure di coccine di cose che lo racconto molto ampiamente nel mio libro anche gli psicofarmaci hanno fatto effetto poi... bisogna avere una forza enorme per allontanare quando uno si sveglia i pensieri negativi perché quello che succede è che ti svegli e dici oddio devo affrontare la giornata bene... bisogna fare un grosso sforzo su se stessi per dire affronterò questa giornata con le mie capacità starò in certi momenti male ma supererò anche quelli e poi bisogna aggrapparsi a qualcosa che riguarda il futuro un progetto futuro Aristotele diceva... quindi insomma aveva capito già tanto tempo fa che la vita deve essere un progetto... un sogno scusate... ad occhi aperti che vuol dire? io mi sono domandata che vuol dire? ebbè vuol dire che bisogna avere lo sguardo verso il futuro e come costruire il futuro questo mi è stato... con i piedi per terra... questo mi è stato di grandissimo aiuto io ero giovane quindi... 42 anni e quindi... beh... ci dovevo pensare al futuro dovevo crescere questi tre figli dovevo continuare con il mio lavoro dovevo... dovevo anche fare delle cose che mi sarebbe piaciuto moltissimo ancora fare che non avevo fatto e allora ho cominciato a contrastare il drago ogni volta... gli parlavo... gli parlavo... gli parlavo veramente dicendo vattene... non ti voglio con me e nel frattempo però cercavo di curarmi fino a che ho trovato appunto il modo di piano piano di affrancarmi da alcune medicine con le quali si crea una dipendenza incredibile e di tenere soltanto una medicina che è... che poi ho cominciato a considerare che è un ricaptatore della serotonina ma che ho cominciato a considerare in maniera... non... oddio mio... io sono soggetta a questa malattia... la peste bubonica perché... no... c'è chi ha mal di fegato e si deve curare c'è chi ha dei problemi circolatori e si deve curare c'è chi... e così via... e ho detto vabbè... e io devo irrorare le cellule del mio cervello mmm... tutto qua... nell'epilogo di Votale contro il Drago, Patrizia, scrivi che hai capito una serie di punti fondamentali per cui il Drago non ti fa più paura nell'ultimo punto leggo che infine bisogna pregare pregare qualsiasi dio in cui ci si crede pregare fino ad essere esausti con la determinazione di riuscire a star meglio la pratica della preghiera costante spegne l'energia del Drago bisogna pregare? allora... ehm... si... la preghiera dà speranza speranza di farcela io peraltro sono stata credente fin da bambina guagli mi tocca Gesù un po' armonica con la chiesa o i ministri della chiesa e ho frequentato comunque le storie di Nevers quindi... e poi c'è stato un evento nella mia vita che mi ha scioccato sono stata scomunicata perché ho sposato un divorziato scomunicata per l'amore? no... la cosa non mi andava giù e ho cominciato a... ho parlato con tantissimi sacerdoti veramente in gamba e poi ho incontrato nel momento più disperato ho incontrato la pratica buddista che è una pratica che ti insegna a tirare fuori la parte migliore di te non ci sono... di dei... non c'è una divinità superiore a noi ma c'è un'autodisciplina molto importante se rispetta te stesso in quanto sei un Buddha e rispetta gli altri perché lo sono altrettanto lo so che... ha... 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 alcune persone ci possono sembrare veramente prive di buddità ma questo invece mi è stato di grandissimo aiuto per la mia risalita perché a parte l'autodisciplina di pregare mattina e sera di avere accanto dei compagni di fede che hanno cercato di aiutarmi in tantissime maniere ha rappresentato una rivoluzione nella mia vita comunque quello che consiglio a tutti quanti è... si pregare non abbandonare una profonda spiritualità tutte le religioni dicono... tutte le religioni sane dicono effettivamente che c'è in ognuno di noi una grande forza di autocarigione e se si portano avanti dei valori profondi in cui uno crede ai quali si aggrappa che è aiutare se stessi e gli altri questo è il modo per uscire fuori da un inferno nero che è la vita con il drago e Patrizia ma secondo te chi dovrebbe leggere questo libro? io ho fatto un libro perché sia utile a tutte quante quelle persone che cominciano a scivolare nelle sabbie mobili di una depressione di ripetuti attacchi di panico di una visione della vita inerottabile ci sono dei parecchi punti nel libro dove tento di dare dei consigli in base alla mia esperienza prima di dare alle stampe con Feltrinelli questo libro mi sono documentata tantissimo facendo anche interviste a tante altre persone per vedere se la matrice è comune bene la matrice è sempre una mancanza di fiducia in se stessi una scarsa autostima una chiusura nei confronti del mondo allora io cerco di dare dei consigli in più parti per far sì che le persone abbiano appunto un aiuto fomentino il desiderio di uscire fuori perché si può da quello che è ciò che io ho chiamato in uno dei capitoli e l'inferno, il drago dentro di sé grazie a tutti grazie grazie